è quel piccio in testa di warden siamo in capo io pensi che tra meno di 5 secondi ci sono obiettivo peccato che non hai il defuser ma raga ma l'avete provata la desert col silenziatore mamma mia raga ciao amore ok andiamo a fin no se uccidevo questo facevo 8-0 come te matti guardate che round abbiamo fatto no ma tutta la partita non ci hanno capito un cazzo no ma un operatore non hai più il disinnescatore il disinnescatore è stato recuperato il disinnescatore è morto disinnescatore attivo proteggetelo a tutti i costi difensori eliminati missione di attacco riuscita il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona la tua posizione è stata compromessa la tua posizione di attacco la tua posizione di attacco la tua posizione di attacco un operatore alleato rimasto ultimo attacco è rimasto in vita i difensori hanno eliminato tutti i nemici dai sono dentro bravo marty difensori eliminati perché si è messo in mezzo a cagare il cazzo con lo Jäger si è direi io non ho visto che si è messo in mezzo a cagare il cazzo con lo Jäger proteggete le bombe io mi sparerei in testa sto Jager che si ammiaccia in mezzo ai coglioni raga sto round dobbiamo vincerlo per forza fortificazione muro fatta siamo a 10 secondi il nemico ha trovato una bomba prepararsi all'ingaggio non c'è la pistoletta e le bombe riparo le tossine aggiunto dove ricarico ricarico bravo no che che hai fatto no non è vero è solo una puntura ok no ma sta ambushando è inutile rompono la finestra ma da ma io lo prendo vabbè vabbè finestra a sinistra c'è il glad è entrato lo sento lo sento paolo che cazzo fai che vabbè ha trovato una bomba proteggetela hai messo gu sotto no tutte sopra le gu ma all'entrata di ogni disinnescatore disinnescatore ce l'ho io ultimo nemico rimasto no 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 guarda le campu guarda mi stancavo qua sopra dimmi quando arriva lo sento lo sento si 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 15 secondi 10 secondi e via 5 secondi bravo i difensori hanno eliminato tutti a 3 5 6 6 6 8 7 9 9 10 10 11 no paolo non tutti e due dalla stessa parte un orco 2 non lo so non muore voglio la mia occasione cazzo però me dovete aiutare ogni tanto se ne trofai paolo arrivo vai è andato quanto sei di vita vieni da bar che apro da bar l'esplosione lancio una scordente difensori neutralizzati vittoria per l'ultimo enrico rimasto planta 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 l'esplosione rimasta ha trovato una bomba si è diffusa da me ma si mi rimasta la mano sta arrivando bravo aspetta c'è un altro qua lasciala subito la tua posizione è stata compromessa ce l'hai ancora si si ci sto io sta su scale bianche ti stanno seguendo eh ci ho già calato a capo al culo ti sento tu stebi sopra di me sono sulle tue tracce ma stanno libero si l'ho libero di scoperta ultimo attaccante rimasto in vita si è sciolto sono un operatore d'attacco eh mi hanno interrogato d'occa non ho sento che devo andare a cadere pierre non mi stare davanti pierre pierre non mi stare davanti cristo madonna se l'ho libero di scoperta non è che tipo di stavo sotto stavo sotto valchiere sotto stavo subito che abbiamo coperto ma ecco io mi ha coperto l'hanno accoltellato assicolato da dove cazzo è uscita pierre Da Geisha Ma come da Geisha? Si non ci ho messo la Crembo Lo guardo in spazio conoscito Dov'è? E' dentro? Tu non va, B.S. Tu non mi ricordi Bravo Eh, non sappiamo dov'è Potreste entrare dalla finestra di bomba A E trancare Mancano 15 secondi Non c'è Mancano 10 secondi Tanto Bravo Ottivate Un quadro d'attacco ha eliminato il quadro d'attacco Un quadro d'attacco ha eliminato...